Ciao a tutti ragazze e ragazze, benvenuti in un nuovo video. Questo è il video dei prodotti beauty and makeup del periodo, quelli che sto utilizzando maggiormente. Questa è la seconda volta che provo a caricare il video, ma prima stavo registrando e si è capottato il registratore, la videocamera. Non si è rotto niente, però ho deciso di rifare il video, sperando di essere più fortunata stavolta. Va bene, allora ricomincio da capo. I prodotti che sto utilizzando maggiormente in questo periodo sono, per quanto riguarda il makeup, questi due fondotinta dell'Avon. Quello sulla sinistra è un fondotinta in crema della linea Ideal Flowers, natural beige, che non manca neanche molto per terminarlo. Adesso ho ripreso a utilizzarlo perché fa freddo e mi dà l'idea che mi protegga un pochino di più la pelle del viso, oltre a dare anche un colore più intenso. Sì, più intenso e mi dà l'idea che la mia pelle renda il meglio con questo fondotinta in questo periodo. Poi l'altro fondotinta che appunto sto utilizzando è questo sempre dell'Avon, della linea Calming Effect, la colorazione è la Nude. È un fondotinta in polvere, vediamo. Ops, che romano. Ed è questo colore qui, molto carino, mi trovo benissimo, l'ho utilizzato anche d'estate, non in piena estate. Ma forse me l'avrò portato anche via in vacanza questo qua. E sì, mi pare di sì. Questo lo utilizzo anche d'estate, proprio perché è in polvere, però ovviamente quando non fa troppo caldo, perché sennò... Anche no, insomma. Mi piace moltissimo, entrambi questi fondotinta sono i miei, posso dire, i miei due fondotinta preferiti. E mi trovo molto bene. Poi altri prodotti utilizzati, ho utilizzato diversi di trucchi, però quelli che ho utilizzato di più appunto sono come fondotinta solamente quei due. E dopo ho utilizzato tantissimo questo mattitone ombretto della Kiko. E dopo, assieme a questo mattitone ombretto, sempre della Kiko, sempre la solita, questo qui... Quando non so come truccarmi, vi vado sul sicuro utilizzando questi due prodottini. Poi un mascara, che penso che butterò via tutti gli altri mascara che ho e utilizzerò solo questo, e può essere anche che me lo vado a comprare in full size. E' questo che ho trovato in una rivista, mi sembra grazia, forse il mese scorso, della Lancome. Questo qui è buonissimo, mi trovo... Ecco, Hypnose Drama si chiama. Questo è buonissimo, mi trovo benissimo, e probabilmente quando lo terminerò, o quando mi gira, insomma, di andare al negozio, potrei anche acquistare quello full size. Anche perché è inutile avere 100.000 mascara. Poi vabbè, il kit per le sopracciglia, solito, e basta. Dell'Essence, è sempre quello. Poi, parlando invece di altri prodotti, sto utilizzando abbastanza spesso, in questo periodo, queste salviette struccanti, con acqua micellare, della seta blu, che è un marchio che ho trovato in un negozio cinese. Le avevo prese per curiosità, costano veramente poco, non ricordo quante stiano all'interno, forse non è neanche scritto, comunque non fa niente. E queste sono per pelle sensibili, non so se le ho parate 99 centesimi o un euro o qualcosa, ma posso dirvi che sono veramente ottime. Io queste ve le consiglio, se avete occasione di reperire questo marchio, provatele perché ne vale veramente la pena. Struccano veramente molto bene, sia il trucco normale che il waterproof, ne basta una, massimo due, non irritano gli occhi e puliscono in modo ottimo. La profumazione è un po' fresca, richiama un pochino i prodotti tipo quelli della Fresh & Clean, le salviette multiuso, anche se queste appunto sono per pelle sensibili, sono per il viso. Però devo dire che sono veramente ottime per lo struccaggio. Se le trovassi in un'altra profumazione, cioè non che mi dispiace, però preferisco utilizzare il salviette con una profumazione un po' più delicata, più dolce. Se le trovassi in qualche altra profumazione, sicuramente potrei provarle, però non escludo di ricomprare queste profumazioni di acqua di colonia a parte, ecco, perché struccano veramente in modo egregio. Io ve le suggerisco, costano poco e sono ottime, 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 ottime. Altre salviette che ho utilizzato in questo periodo sono queste della Fria, anche queste le ho utilizzate per struccarmi, anche multiuso. Queste sono quelle con burro di carite, ecco. Tra queste e queste della seta blu, per struccarmi preferisco queste della seta blu. Poi ho utilizzato queste della natura dolce, non per struccarmi, ma a multiuso, anche queste le ho prese recentemente a l'acqua e sapone, sono delle buone salviette. Come detergente intimo sto utilizzando questo dell'aveno, mi trovo bene, è extra delicato, vabbè. Sì, mi trovo bene, la profumazione è dolce ed è veramente comunque lenitivo, se avete la zona un po' irritata, effettivamente è lenitivo. Poi ho il mio dentifricio del momento, questo della Helmex, nella confezione quella con le scritte verdi. Non so se ci siano altri dentifrici della Helmex, però immagino di sì, visto che ci sono due tipi di collutori. Ad ogni modo io con questo mi trovo molto bene, mi piace il gusto, mi piace come mi lascia la bocca ai denti e sicuramente lo potrei ricomprare. In abbinata utilizzo il mio collutorio, che è il mio collutorio preferito in assoluto, e questo della Helmex, sempre quella alla linea, quella con la scritta verde, mi trovo benissimo. Come deodorante sto utilizzando, è anche quasi finito, questo della DAV, della linea Go Fresh. Sì, mi trovo bene, però non so se... ma teoricamente non lo ricomprerò come deodorante, a meno che non venga abbagliata da qualche confezione di DAV, e decido anche di comprarlo, ogni linea di massimo io cerco di comprare deodoranti senza sali di alluminio per le ascelle, però qualche volta c'è qualche confezione che mi colpisce, insomma comunque le profumazioni della DAV sono buone, quindi a volte mi succede di prendere anche quelli senza sali di alluminio, però potendo scegliere, li preferisco, scusate il giro di parole, senza sali di alluminio. Poi ho sempre come deodorante, sto alternando e sto utilizzando questo della Atting Sauce, della linea English Garden, alla profumazione cedro, credo qui è scritto citrus, non so se sia limone o cedro, ma poco importa, insomma gli agrumi. Anche questo mi trovo bene, lasciala per le... cioè non fa puzzare e non irrita assolutamente, ed è molto valido anche questo deodorante. Poi come detergente mani sto utilizzando questo che mio papà aveva acquistato al Bricco per pochi soldi, 99 centesimi oppure un euro, alla profumazione di limone, tipo mucchina in pratica, solo che la profumazione è più dolce, e sì non è male, sarà un po' quasi di detersivo, però per cambiare come profumazione non è male. Poi ho quasi finito, sto utilizzando, sto cercando di finire, ma non finisce più, ogni volta che sia, credo, finito, questo detergente si rigenera, comunque questo è il gel lavamani, gel detergente, dico, della linea Lalo e di Bottega Verde, un ottimo prodotto che sicuramente potrei ricomprare, sperandolo di trovarlo in offerta, perché questo l'ho pagato a prezzo intero, quasi 9 euro, non credo che prenderei un altro detergente mani a questa cifra, se lo trovassi a 4 euro, 3-4 euro, anche meno, ecco, può anche andare un detergente mani, però cifre alte, insomma, secondo me non vale la pena. Poi, come bagnoschiuma, ho provato a utilizzare questo qui della Natir Bio, che avevo comprato qualche mese fa, con olio di Argan del Marocco, a me questo prodotto non mi è piaciuto, nel senso, sì, lo utilizzerò, perché ho speso 7,80 euro per comprarlo, però la profumazione non mi piace per niente, cioè, non è di mio gradimento. Poi, un altro prodotto che spero di finire presto, ecco, tra questi due, preferisco quello della Dermomed, come profumazione, anche se non mi piacciono entrambi, questo per farvi capire. Questo qui l'avevo pagato poco in un negozio cinese, avevo trovato questa linea, diciamo, edizione limitata, questo con ghiaccio e cocco, mi ispirava che fosse al cocco, però il cocco non è che si senta tantissimo, nel senso che è spento, da una profumazione un pochino più fresca, quindi non credo di ricomprarlo per questo, perché non è il tipo di profumazione che, diciamo, preferisco. Poi, come crema per le mani, adesso ho cominciato a fare il freddo e la mia pelle delle mani necessita, perché sennò, a volte, sì, cioè, io non è che abbia la pelle delle mani secca, però purtroppo adesso fa veramente freddo e quindi ogni tanto sentivo la necessità di utilizzare la crema. E allora ho preso a utilizzare questa della Manila, insomma, al limone, la profumazione di limone si sente tantissimo, mi trovo bene ed è una buona crema. Poi, vediamo un pochino come sapone liquido sto utilizzando, oh, stava per partire la videocamera un'altra volta, ma ci siamo salvati. Come sapone liquido sto utilizzando questo della Mantovani con talco e fiori bianchi, tra questo e gli altri due, che sono invece quelli della Fresh & Clean, che avevo acquistato nello stesso periodo, quello col tappo rosa e quello col tappo azzurro, che era i fiori di cotone, io tra questi tre preferisco in assoluto quello che ho già terminato e che vi avevo mostrato nei prodotti finiti un po' di tempo fa, della Fresh & Clean con fiori di cotone. E tra questi tre, credo che l'unico che... questo potrei anche ricomprarlo, non è male, però quello che potrei ricomprare tranquillamente, a colpo sicuro, una volta terminati un po' di saponi liquidi, è quello della Fresh & Clean ai fiori di cotone. Aveva una profumazione di fresco, di pulito, quei profumi di lavatrice quando si sente la biancheria pulita, che era una cosa strepitosa, quindi quello sicuramente lo riacquisterò. Un altro prodotto che ho provato a utilizzare in questo periodo è questo bagno doccia delle ultra dolce, con crema d'avena e mandorla dolce, la profumazione è veramente buonissima e mi ha lasciato piacevolmente stupita, questo prodotto io pensavo sia un bagno scuma normale, l'ho preso perché era una novità, ero incuriosita, poi la profumazione comunque di avena mi piace tantissimo, pensavo che mescolata con la mandorla fosse veramente buona. Effettivamente la profumazione è molto buona, ma è buona anche la consistenza di questo bagno doccia, è proprio piacevole da stendere sulla pelle, è un ottimo prodotto e sicuramente una volta terminato lo potrei ricomprare. Poi vediamo un pochino come profumi ho utilizzato, principalmente ho utilizzato anche altri profumi, ma quelli che sto utilizzando di più, che ho utilizzato di più ultimamente, sono questi due. Quello della Fresh e della Disregal, che ha una profumazione molto estiva, che comunque sono legata a questo profumo perché mi ricorda la mia vacanza a Ibiza, tra l'altro è molto comodo da portare in borsetta perché non occupa molto spazio. L'altro profumo che ho utilizzato parecchio è questo qui della Tesori d'Oriente, della Bizantinium, avevo sentito le recensioni qui su internet, devo dire che è un ottimo profumo, mi piace molto, rosa nera e labdano, dolce ma non stucchevole, proprio buono e ve lo consiglio. Comunque vi consiglio anche questo, se vi piacciono le profumazioni fresche, che sanno d'estate, fresche ma lo stesso un po' sfruttate, è buono anche questo. Credo di avervi mostrato tutto, forse manca il make-up, sì il make-up manca, ho utilizzato questi due prodotti, principalmente i miei due fondotinta, quello in polvere dell'Avon, della linea Calming Effect, la colorazione nude, che si mette a tappo in giù e dopo questo è il colore, molto valido, molto buono, l'utilizzo anche d'estate, ecco vedete è caduto un po', vediamo se riesco a mostrarvelo. No, forse non riesco. Comunque è ottimo, io l'utilizzo anche d'estate, ovviamente non quando il caldo è eccessivo, perché sennò la pelle comunque suda e dà anche fastidio sentire qualcosa di appiccicoso. E poi questo in crema, sempre dell'Avon, che come vedete non manca molto per terminarlo, e questo invece è della linea Ideal Flowers Natural Beige, sono due ottimi fondotinta, io potrei tranquillamente ricomprarli una volta terminati. Quindi in generale comunque i trucchi, il make-up dell'Avon, io mi trovo bene, mi piace. Poi, vediamo un pochino, e altri due prodotti utilizzati parecchio, sono questo mascara, che è l'unico mascara che sto utilizzando al momento, penso che i vecchi mascara li butterò via tutti o quasi, ho già fatto una spulciata, ma penso che ne farò un'altra prossimamente, preferisco avere uno o due mascara al massimo, ma prodotti recenti che avere centomila mascara vecchie, che non so se quando li indossi ti fanno male. Comunque, finora comunque non ho avuto problemi, però preferirei anche non averne. Questo qui l'ho trovato su una rivista, mi sembra il mese scorso, o forse anche un po' di tempo, o forse anche più di un mese scorso. È la mini taglia del mascara della Lancome, Hypnose Drama. È buonissimo, è validissimo, mi piace come lascia le ciglia, mi piace lo scorolino, mi piace tutto. E credo proprio che quando avrò terminato il prodotto, quando mi recco in profumeria, mi comprerò la taglia normale, perché è veramente un mascara ottimo. Infine, per gli occhi, ho utilizzato tantissimo, questo matitone, sempre il solito della Kiko, matitone ombretto, io mi trovo molto bene con i matitoni ombretto, sono comodi, inoltre, ogni tanto si capotta, perdono, vedete, devo finire questo prodotto, si è capottato. Insomma, vabbè, insomma, ah no, perché l'ho giusto, ho tirato su troppo, aspettate, ho fatto fuori in diretta il, l'ombretto. Aspetta, eh, insomma, pazienza. Poi, insomma, dicevo, questo mi piacciono tantissimo, perché comunque i matitoni ombretto, ho l'idea che durino, che il trucco duri di più. E poi questo è sempre della Kiko, matitone ombretto, il solito rosa. Ragazzi e ragazzi, vi ho mostrato tutto, grazie a tutti della visione, ci vediamo al prossimo video.